Angela Carini si è ritirata dopo 46 secondi contro Imani Kelife, la boxera algerina che nel 2023 non aveva superato il test del testosterone e di idoneità di genere. Dopo aver ricevuto due pugni pesanti tanto da averle fatto urlare fa malissimo, l'atleta italiana ha deciso di ritirarsi. Finito l'incontro l'algerina ha cercato di stringerle la mano, ma l'azzurra l'ha ignorata, poi si è piazzata in centro al ring, si è inginocchiata e ha incominciato a piangere. Ai giornalisti ha dichiarato che ha combattuto per suo padre e ha aggiunto Non mi sono arresa, ma quel pugno mi ha fatto troppo male, non respiravo più e quindi ho detto basta. Imani Kelife è stata autorizzata a partecipare all'Olimpiadi dopo essere stata squalificata ai mondiali femminili di box nel 2023. Poiché i valori di testosterone erano superiore al limite consentito, il test del DNA ha rivelato la presenza del cromosoma XY, anche a quello maschile. Il Comitato Olimpico Internazionale ha dichiarato Kelife, secondo il suo passaporto, è una donna e tutti gli atleti del torneo rispettano i regolamenti di ammissibilità della competizione. Dopo l'incontro il caso è diventato di portata mondiale. Il web si è diviso tra chi pensa che Imani Kelife non avrebbe dovuto essere ammessa, tra cui Elon Musk, Logan e Jake Paul e J.K. Rowling, e chi invece pensa che sia giusto che partecipi. Voi cosa ne pensate?